La sentenza numero 170 del 12 luglio scorso emessa dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una parte del decreto sblocca Italia sulla coltivazione e lo sfruttamento degli idrocarburi dando così ragione all'Abruzzo che insieme a diverse regioni d'Italia tra cui la Lombardia, la Campania e il Veneto aveva presentato ricorso. La Corte ha stabilito che la regolamentazione dello sfruttamento degli idrocarburi trattandosi di materia concorrente non fosse competenza esclusiva. Con la sentenza pubblicata il 14 luglio scorso la Corte Costituzionale ha dato nuovamente ragione all'Abruzzo annullando il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico meglio noto come decreto Trivelle 2015 in quanto emanato senza preventiva intesa con le regioni. Grazie a ciò il Governo centrale dovrà preventivamente intendersi con tutti i territori d'Italia. Cosa che ha permesso come terzo ed ultimo punto di ulteriormente corroborare il ricorso al Capo dello Stato che abbiamo fatto in via straordinaria sempre attraverso l'Avvocatura regionale dello Stato contro il decreto Trivello del 2016 che poi integrò e sostituì integralmente il precedente, quello dell'anno 2015 a cui c'eravamo opposti chiaramente con delle decisioni della Supremo Corte che a questo punto fanno pendere l'ago della bilancia a favore dell'Abruzzo per la terza volta in maniera quasi immediata. La questione energetica però resta sempre un campo aperto ma Zocca chiarisce che c'è già stato un confronto con le altre regioni italiane su rinnovabili ed energia sostenibile. Se non elaboriamo un percorso di natura strategica con dei tempi brevi e medi attraverso i quali poi poter applicare ed attuare delle politiche che vanno verso la direzione di un uso dei rinnovabili noi non facciamo un'opera buona né per il paese né per la nostra regione né tanto meno per i nostri cittadini.